Crescono i membri all'interno del capitolo BNI Maioliche di Faenza e anche nei mesi di lockdown sono aumentati nuovi arrivi. Esatto, sono aumentati i nuovi arrivi. Martina Dall'Oglio e Benedetto Pironi sono le due new entry di beta formazione e beta imprese che si occupano di formazione online e web, quindi chi più di loro è esperto a fare queste cose. Tra l'altro si parte da Faenza ma anche in questo caso abbiamo sempre più un capitolo interprovinciale. Sì, capitolo interprovinciale, loro sono di Lugo, io sono di Ravenna, alcuni vengono anche da Roma in realtà anche se sono nel capitolo di Faenza. Questo è un buon segno che porta il capitolo nei primi in Italia. Siamo tra i primi 15 in Italia, per esattezza siamo 11, diciamolo. Anche in questo momento di lockdown, BNI Maioliche cresce in numero di referenze, in fatturato, cresce anche in numero di membri. Siamo a Lugo dove per beta formazione è entrato da poco Benedetto Pironi. Come mai, come si è avvicinato BNI? Allora, ci siamo avvicinati ovviamente grazie a delle conoscenze. Ritengo appunto, essendo BNI un'associazione di imprese e di imprenditori, che possa fare molto al caso nostro grazie al fatto che riusciamo a creare delle sinergie referenziate e quindi delle collaborazioni per la tipologia di attività mettendo a confronto appunto la nostra azienda con altre aziende. Questo ci permette ovviamente di avere visibilità sia nel territorio nazionale che addirittura mondiale, grazie appunto a questa espansione che abbiamo avuto negli ultimi tempi. Quindi è cresciuto anche il fatturato grazie a BNI? Sì, è cresciuto grazie al fatto che la ricerca dei nostri fornitori in qualità di docenti e formatori ha trovato parecchio terreno fertile all'interno di questa associazione. Tra l'altro da Lugo voi vi rivolgete a tutto il territorio nazionale? Sì, noi lavoriamo soprattutto in grosse province grazie al fatto che il nostro core business verte più che altro per esso gli ordini professionali, quindi tutti quei professionisti iscritti agli ordini, per cui sì, in tutto il territorio nazionale. Perché entrare in BNI? Sostanzialmente per una ragione, per fare business. BNI, grazie al marketing referenziale, dà la possibilità a tutti gli imprenditori di conoscersi, di presentare la propria attività e presentarsi a vicenda. E questo è un'opportunità ed è il miglior marketing presente sul mercato. Beta Imprese in questi mesi ha lavorato comunque anzi di più. Sì, noi con Beta Imprese siamo riusciti a organizzare la progettazione per tutto il 2020, implementando quasi 60 nuovi percorsi formativi. E grazie ai BNI sono riusciti a reperire numerosi docenti provenienti da tutto il territorio nazionale. La formazione online avrà un volano da questa situazione? Sì, credo di sì. Credo che questo lockdown abbia dato l'opportunità a tantissime persone di conoscere nel dettaglio che cosa significa formarsi online. E che quindi questo tipo di formazione può essere uno strumento utile, un'opportunità nuova per poter crescere le proprie competenze.